Il sorriso e la dolcezza di Camilla Vezzoni, bambina di 5 anni che ha volato in cero nel dicembre 2022 a Piadena Drizzona, sono ancora presenti e vivi in chi l'ha conosciuta e non solo. Il ricordo della bambina nata con la sindrome di Down e che aveva affrontato col sorriso e con forza alcune operazioni al cuore e poi la leucemia, è in arrivo un evento per tutte le famiglie del territorio e non solo. Domenica 11 maggio dalle ore 16.30 alla fattoria didattica Magenzane di via Malcantone 16 nel quartiere Buschetto a Cremona, andrà in scena infatti un sorriso per amico, un sorriso per Camilla. Domenica 11 giugno, evento per Camilla. Camilla è una bambina che ha frequentato negli anni scorsi, prima della sua, ahimè, lunga malattia, aveva frequentato il nostro agrinido. Noi con la famiglia e con Camilla siamo sempre rimasti in contatto, anche quando lei comunque era in situazioni chiaramente non idonee per una bambina così piccola, abbiamo sempre, l'abbiamo sempre seguita e ci siamo sempre così sentiti con la famiglia. Quindi quando nel dicembre scorso Camilla è venuta a mancare, da qui subito l'idea di fare una giornata per lei, una giornata all'insegna dei sorrisi perché Camilla era così, era una bambina tanto, tanto sorridente e quindi noi così la vogliamo ricordare e vogliamo dedicarle una giornata. Quindi sarà un pomeriggio benefico, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Abe, che è un'associazione che ha aiutato tanto Camilla e anche i genitori stessi durante il suo periodo più buio e quindi speriamo che questo possa servire anche a altri bambini meno fortunati che sono magari in struttura in questo momento che hanno bisogno di un sostegno e di un supporto. Quindi l'ingresso naturalmente è libero, si può entrare con l'offerta appunto a sostegno di questa situazione, come si svolgerà più o meno questo pomeriggio? Allora, un pomeriggio benefico come dicevo si svolgerà diciamo su due temi sostanzialmente, uno è quello dedicato alle letture, quindi racconti animati in cargo che saranno curati dal laboratorio ASD-APS con il progetto lettori prossimi. C'è stato un incontro, uno scambio con la piccola biblioteca di Cremona, sono state individuate delle letture riguardo al tema dell'amicizia, del volersi bene, del prendersi cura, che saranno animate appunto dalle ragazze del laboratorio. E poi ci saranno in parallelo delle attività laboratoriali a cura della nostra fattoria didattica, dove faremo momenti così di attività con elementi naturali e anche uno spazio dedicato ai più piccolini, uno spazio sensoriale, sempre così in un contesto naturale. E inoltre ci saranno tutti i nostri animali che i bambini con le loro famiglie potranno conoscere. L'ingresso è libero senza prenotazione, con contributo a favore di ABE, associazione che ha aiutato Camilla e la sua famiglia durante tutto il percorso della bambina. L'evento, patrocinato dal Comune di Cremona, ha bisogno davvero della partecipazione di tutti i cremonesi, famiglie e non solo.